Grazie. Grazie. e chi me l'ha detto, ok? Ma si è deciso di cambiare la situazione, capite? I problemi, non ti chiedi, prima la fatica, se mi cresce questa fatica di Stasino. De geometra. Eh, bello, 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 ecco, come l'assessore... Sì, sì. Siamo stati a parlare in intervento da stare raccontando a Savic e a Tuglia. Sì, sì. Eh, però, voi sapete che le capacini che le compagnie non hai su un compagnie. Guarda che hanno un compagnie. Tu sai? No, no, no. Eh, perché l'asta è il maestro, perché tu, perché tu magari partecipi con 50 imprese che fanno capo tutto il tempo. Legalmente ci mancherebbe altro. Proprio alla fine, almeno non mi metti davanti a far vedere questa... ...le avevo dato la legisla... ...le avevo dato la legisla... ...perché sono i casi a posto... ...perché il suo papà... ...perché il suo papà... ...perché il suo papà... ...se metto Pumba quanti chiamano l'Inter. Ponete così in opera? Sì, sì, sì. Solo tampe che 140. 140. Ah, no, voi, no? No, non ci sono passivo, perché io non ho a Ebravin. ...le avevo dato 10. Eh? E quindi su 10? Sì, su 10. Sì, su 10. Metti su di... Sì, ma... ...le avevo... ...le avevo dato 10, ma no? Eh, ma... ...le avevo dato 10, ma no? Eh, ma... ...le avevo dato la casina... ...le avevo avuto due... ...perché manutenzione. ...le avevo dato 10. ...le avevo dato 10. E ci muove ad agnotare. Ma... ...diciamo che arrivedo al premesso... ...bri, ecco qua... perché chiamate sempre pancroni? quindi che cosa bisogna fare all'inavanti? le bisogna quando si tira quelle che sono anche solo invitate e non criticate sì quindi prendiamo cosa dice la cosa dice la relazione c'è il fatto che tu le invitati innanzitutto dai sempre a lui la possibilità di non avere altro quindi per esempio a questa qui poi vi faccio vedere ma è anche giusto